Avevamo visto che una delle grandi preoccupazioni di Galileo era quella di trovare una fisica per il sistema copernicano, una volta che il sistema copernicano per lui aveva dimostrato una sua solidità e convincibilità. Nel Siderius Nuncius del 1610 lui aveva già trovato qualcosa che poteva convincere persone che non erano tanto convinte del sistema copernicano, l'idea che ci fosse non un centro di rotazione nel sistema solare ma ce ne fosse almeno un altro, aveva trovato i satelliti di Giove e questo poteva essere un argomento convincente per cui se Giove gira intorno al sole trascinandosi le sue quattro lune, anche la terra può girare intorno al sole trascinandosi la sua luna. Quindi una prima chiara superamento di una delle controverse o dei paradossi anticopernicani. Un altro paradossi anticopernicano riguardava il fatto perché nella caduta di un grave dall'alto per esempio io lascio cascare da una torre un sasso e vedo che lui cade sempre in verticale e finisce proprio in corrispondenza del punto da cui l'ho lasciato cadere. Se la terra ha vari movimenti, ruota diurnamente sul suo asse o ruota nell'orbe magno intorno al sole, come mai dal momento in cui la pietra rimane staccata dalla terra riesce lo stesso a seguire il moto della terra e non cascare da una parte o dall'altra non in verticale? Questa era una dei grandi paradossi che venivano discussi all'epoca contro il copernicanesimo e quello che appunto Galileo elabora è qualche cosa che gli veniva già da alcuni scritti che aveva fatto e raccolti oggi in quelli che si chiamano scritti del De Motu del 1591-92, erano scritti a cavallo del passaggio tra Pisa e Padova e in questi scritti aveva già chiaramente espresso la sua convinzione che non c'era differenza tra moto e quiete, mentre nella tradizione aristoterica questa differenza scera ed era considerata una differenza proprio essenziale, invece moto e quiete sono solamente due stati diversi della velocità di un corpo materiale e allora lui partendo da lì elabora quello che è in nusce il principio di relatività, viene chiamato oggi così ma vedremo che non è proprio la stessa cosa, di relatività galileiana e cioè prende un esempio che potremmo chiamare una metafora, una specie di esperimento mentale quello della nave ferma in porto, se la nave ferma in porto sotto coperta perché non ci deve essere il disturbo dell'aria io faccio una serie di verifiche e esperimenti sui moti, non di tutti questi moti conosco le leggi, o meglio Galileo conosceva le leggi, però dice se io salto a pie pari verso poppa o verso prua, se guardo il fumo di una candela che sale in verticale, se guardo l'acqua che gocciola lentamente dentro lo stretto bocca di un fiasco sottostante, va bene, o altre cose, animaletti che volano, pesci che nuotano, mi accorgo che quando la neve, e non potrebbe essere altrimenti, quando la nave è ferma in porto tutto va così, va bene, quindi ci sono moti parabolici, salti che non sono più energetici verso poppa o verso prua. Se la nave si muove, qui sta il nocciolo, con velocità alta quanto si vuole ma costante, io torno sotto coperta e gli esperimenti funzionano nello stesso modo. Questo vuol dire che le leggi della moto, della fisica, restano in forma invariate nel passaggio da un sistema di riferimento ad un altro, dalla nave ferma alla nave in moto rettilineo uniforme. E questo in nuce è il principio di relatività galileana, l'invarianza in forma delle leggi nel passaggio da un sistema a un altro che si muovono l'uno rispetto all'altro, di velocità costante. Perché non è proprio la relatività galileana che sarà definitivamente acquisita solo alla fine dell'Ottocento? Perché a Galileo manca il principio di inerzia come lo conosciamo noi oggi. L'idea che un corpo non soggetto a forze resta fermo, si muove di moto rettilineo uniforme indefinitivamente fino all'infinito, è un'idea difficile per Galileo che quindi rimane ancorata all'idea un po' aristotelica o della tradizione aristotelica che i moti inerziali sono quelli che si ritornano su se stessi, cioè i moti circolari che è tipica tradizione aristotelica. Però quello che a Galileo serviva era proprio solo questo, cioè dimostrare che se io mi trovo su una nave, la nave è la terra e tutto quello che è sulla nave, viene trasportato dal moto della nave, io non posso stando sulla nave capire se questa sta ferma o si muove. Quindi io stando sulla terra non posso capire se sta ferma o si muove. Non solo, magari la va anche un po' oltre, la nave quando io la vedo passare so che poi farà il cerchio, compirà, se potesse esserci mai, il cerchio completo della circonferenza della terra, ma in realtà io essendo il raggio molto grande la vedo in prima approssimazione compiere una traiettoria rettilinea. Quindi quest'idea della inerzialità dei moti rettilinea in nuce c'è della relatività galileana, ma sicuramente non c'è la definitiva acquisizione che appunto sarà molto successiva. Quindi un nuovo importante argomento a favore del copernicanesimo. Non potete pensare che con i moti, studiando i moti locali, si possa avere una differenza tra terra ferma e terra emoto. Tutto questo consegnato nel 1624 a una lettera scritta a Francesco Ingoli, pagina poi ricopiata pari pari nel 1632 nel dialogo sopra i massimi sistemi del mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.